Avvocato Rossignoli, una giornata, una prima parte dei lavori nella mattinata già delineato di contributi importanti che fanno intravedere comunque degli scenari complessi ma forse anche con qualche possibilità di uscita da questa situazione di impasse che stanno attraversando nel tipo locale. Io credo che oggi al convegno annuale di Era Anticorallo abbiamo denunciato la situazione che è in atto, che prende le mosse dalla legge di stabilità del 2015 con la quale si sono introdotte dei principi legislativi secondo i quali si è aperta la strada per la chiusura di 76 frequenze televisive regionali che corrispondono a 144 imprese televisive locali nel nostro territorio. Sono 144 imprese, sono circa un terzo delle televisioni locali esistenti nel paese. Queste televisioni danno occupazione a circa 2.000 lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro e queste 144 imprese corrispondono anche a circa il 50% degli operatori che trasmettono nelle regioni che si affacciano sulla costa adriatica, cioè quella che è più coinvolta, la zona che è più coinvolta dalle problematiche interferenziali con i paesi esteri confinanti. Ora, quello che noi abbiamo denunciato oggi nel convegno è che questa legge fatta su iniziativa del governo e tutti i provvedimenti successivi che conseguono non fa altro che portare alla chiusura delle emittenti che hanno, quello che è inaccettabile, che hanno ricevuto le assegnazioni frequenziali a seguito di regolari gare fatte in base alla legge, hanno ottenuto dei diritti d'uso con provvedimenti abilitativi del Ministero dello Sviluppo Economico per la durata di 20 anni, li hanno ottenuti negli anni tra 2011 e 2012, quindi poco tempo fa, non 20 anni fa. Hanno attivato gli impianti come da masterplan ministeriali, cioè secondo gli elenchi del Ministero per l'attivazione di questi impianti, hanno attivato le frequenze pianificate dai provvedimenti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e oggi si viene a dire che questi emittenti hanno sbagliato tutto, che stanno trasmettendo su frequenze che non sarebbero assegnate all'Italia. A prescindere dal fatto che anche frequenze che non sono coordinate per l'Italia possono diventare tali attraverso procedure di coordinamento bilaterale tra i paesi esteri confinanti. Mi pare che non sia previsto però. No, se si volesse avviare queste procedure è possibile avviarle. Se lo Stato estero accetta perché teoricamente comunque bisognerebbe chiudere senza... No, diciamo che bisogna prima verificare se esistono o no le interferenze, cioè se uno utilizza una frequenza... La normativa se non sbaglio dice che comunque nel momento in cui la frequenza appartiene allo Stato estero comunque di qua non può essere accesa anche se non crea interferenze. Non è una normativa italiana. Ma quella del piano... Ma queste sono delle indicazioni contenute nelle indicazioni dell'Unione Internazionale delle telecomunicazioni ma certo che non possono valere come elemento repressivo rispetto a un'emittente italiana che opera in virtù di un titolo abilitativo ministeriale rilasciato a seguito di gare su piani delle frequenze approvati dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni perché questo diventa soltanto un modo per cercare di eludere il problema. La verità è che queste frequenze in realtà sono state girate due volte perché la prima volta di fatti determinate frequenze anche queste appartenenti a Stati esteri sono state comunque assegnate a dei network, poi in un secondo passaggio come diceva prima qualcuno sono state rimescolate e quindi in combinazione quelle della banda quinta e quelle che comunque appartenono a Stati esteri sono state tolte ai network e passate alle locali. Sì ma questo in parte è vero ma forse serve solo per appesantire il ragionamento perché le argomentazioni sono talmente tali e tante che non c'è bisogno neanche di arrivare così a fondo del problema per capirne la gravità. La verità è che se oggi ci sono degli impianti che non interferiscono l'estero come è documentalmente provato che non interferiscono, se ci sono degli impianti che attraverso piccoli interventi di compatibilizzazione possono convivere con gli impianti degli stati esteri confinanti non si comprende perché questi impianti debbano essere disattivati. Per cui poi si deve aggiungere, ed è questo il tema centrale, che anche la legge per come è stata fatta quando prevede la chiusura delle frequenze interferenti non ci dice che questo problema deve essere posto totalmente a carico dell'emittenza locale e siccome le assegnazioni frequenziali competono alle emittenti locali per una misura di almeno un terzo delle frequenze è evidente che quando delle frequenze si devono chiudere si deve rispettare la stessa misura di proporzione e che quindi dovrebbero essere riviste tutte le assegnazioni con un'incidenza alla chiusura di due terzi per il comparto nazionale e un terzo per il comparto locale. Quindi seguendo queste semplici regole senza neanche andare a ricercare come dire a ricostruire la storia nei secoli di una determinata frequenza, ecco che vediamo emergere in maniera inequivoca quello che è l'enormità del problema, cioè uno Stato che assegna delle frequenze per venti anni ai suoi cittadini, i quali fanno delle gare per ottenere queste frequenze, dopodiché dice abbiamo scherzato. Vediamo dei soldi pubblici per lasciare le frequenze, questo si è verificato anche due volte. Ma questi soldi pubblici, anche qui la rotamazione, però bisogna vedere qual è il valore, cioè il valore, stiamo parlando di un valore, quello previsto per le misure compensative che è il risorio, che è al di sotto dei valori di mercato, non è neanche compensativo degli investimenti che le imprese hanno fatto per il passaggio al digitale, è largamente inferiore a quello quasi il 50% inferiore alla misura compensativa che è stata adottata per i canali 61-69 in epoca recente. Tutte queste sono misure compensative che diventano soggette a imposizione fiscale in quanto rientrano tra i ricavi di impresa e quindi si vanno a sommare agli altri ricavi e costituiscono la base per la formazione degli utili del bilancio. Quindi in molti casi l'impresa che incasserà una misura compensativa si troverà, se ha il bilancio inutile, a dover riversare una parte di quello che è incassato allo Stato. Ma tra le altre cose, qualcuno diceva prima, forse anche le associazioni in passato potevano fare di più quando sono verificate queste situazioni o comunque si intravedeva che poi avrebbero portato a determinati problemi. Al da di quello che poi è stato o non è stato fatto in passato anche da parte delle associazioni. Oggi concretamente che cosa si può fare? Io credo che questo meriti una risposta netta e chiara a questa questione perché chi dice questo vuol dire che è o in malafede o è completamente disinformato perché le associazioni hanno fatto tutto quello che si doveva fare perché hanno contestato ogni cosa in tutte le sedi, hanno impugnato tutte le delibere che dovevano essere impugnate e tra l'altro sulla questione dei paesi esteri confinanti sono state chieste e ottenute delle precise indicazioni da parte dei rappresentanti del governo che sono state rese anche in forma scritta che oggi vengono disattese da questo governo che dovrebbe come rappresentante dello Stato invece rispettare gli impegni assunti nei confronti dei propri cittadini perché appare come dire certamente non condivisibile il fatto di reclamare l'esigenza di ripristino della credibilità internazionale dell'Italia rispetto a queste asserite interferenze tutte da dimostrare con i paesi esteri confinanti quando non ci si pone minimamente il problema di tutelare la credibilità dello Stato nei confronti dei propri cittadini di uno Stato che fa delle gare, assegna delle frequenze per 20 anni vuole essere pagato per l'uso di queste frequenze, le frequenze vengono attivate come chiede lo Stato, vengono attivate le frequenze stabilite dallo Stato con provvedimenti di pianificazione e poi non si possono usare. Credo che anche questa credibilità dovrebbe essere oggetto di attenzione e mi sembra che quello che si sta facendo vada in una direzione completamente opposta, mentre invece le associazioni di categorie, in particolare Eranti Corallo per quanto mi compete, ha tenuto sempre una posizione ben diversa e tutti i provvedimenti che sono stati fatti hanno riconosciuto quello che noi chiedevamo ovviamente nell'interesse del settore. A livello legislativo cos'altro andrebbe fatto per dare effettivamente un ruolo di dignità alle tv locali? Cosa si può fare al dato dei contributi che soprattutto oggi presumo che saranno sempre più ridotti e quindi alla fine non rappresentano il vero valore e forse la soluzione per ridare professionalità e dignità a questo settore? Il problema dei contributi è un problema complesso perché oggi i contributi sono importanti, forse se il sistema forse è nato non con i contributi, oggi anche il sottosegretario ha fatto delle disposizioni tra il mercato con la pubblicità e il servizio pubblico. Ora è chiaro che uno deve decidere un suo percorso se vuole fare servizio pubblico o vuole fare impresa con lui. Potrebbe anche fare tutte e due magari però con delle regole più chiare dove magari il contributo non va in funzione di alcuni parametri un po' strani a chi fa televendita e a chi magari cerca di fare davvero l'editore. Io credo che il problema dei contributi è solo un sistema per creare un sistema completamente asservito allo Stato, oggi diventa difficile sganciarsi dei contributi, forse quello che si è fatto negli anni passati è quello di aver creato questa situazione. Oggi noi pensiamo che si debba completamente azzerare quello che sono le norme contenute nella legge di stabilità, che sono le norme, che hanno degli obiettivi non condivisibili e che dal punto di vista tecnico sono anche a nostro avviso fatte male. Quindi cosa proporre a livello legislativo? A livello legislativo è molto semplice perché per risolvere questi problemi sarebbe sufficiente avviare dei tavoli tecnici dove si va a vedere caso per caso tutte le frequenze, si toglie dal tavolo della discussione tutte le situazioni in cui l'interferenza non c'è o è risolvibile e a questo punto probabilmente si è già risolto metà del problema. Ma l'altra metà del problema significa che a questo punto le misure compensative per dismetterle frequenze aumentano del doppio automaticamente pur rimanendo lo stesso stanziamento perché la platea degli interessati si dimezza e quindi è un fattore che ha un automatismo. Dopodiché per quanto riguarda il mercato bisogna che il governo si muova finalmente con delle misure che vadano alla direzione della ripresa del mercato pubblicitario. Ci sono delle misure che altri governi hanno già fatto in passato, tra l'altro non soltanto per le radio e le televisioni locali ma ovviamente anche per la stampa locale perché se c'è un intervento non ci può essere un intervento che favorisce un settore di scapito di altri e si potrebbe cercare di dare impulso a una ripresa del mercato pubblicitario. Dopodiché se si vuole ragionare in termini di andare verso soluzioni di maggiore distinzione tra il ruolo dell'operatore di rete e quello del fornitore di contenuti sicuramente la strada presa dalla legge di stabilità è completamente sbagliata perché bisognerebbe incentivare eventualmente fenomeni di aggregazione tra le emittenti in modo tale che tutti conservino comunque la prerogativa di operatore di rete e abbiano la possibilità di accedere direttamente a un multiplex di cui sono soci quantomeno in parte perché la peculiarità del sistema televisivo italiano con tutte televisioni che hanno coperture territoriali completamente diverse una dall'altra porta che se un soggetto non ha una sua rete di riferimento per poter diffondere i contenuti i suoi contenuti non verranno mai trasmessi perché chi trasmette nelle valli del Bergamasco o del Bresciano o in qualsiasi altra parte d'Italia specifica non è che trova un MUX dove andare se non è il suo MUX perché c'è solo quello. Un costo che poi eventualmente apprezzi molto alle elevate e quindi non compatibile con le cose. No, non è neanche un problema di costi, non esistono le reti e nessuno ha intenzione di farle perché non ha senso farle in quelle zone lì. è come dire mettiamo un treno per fare un servizio da una località a un'altra dove ci sono tre passeggeri quindi il punto è che chi fa queste regole evidentemente bisognerebbe che prima approfondisse come è fatto il sistema, lo conoscesse come lo conosciamo noi lo approfondisse con gli operatori in modo tale da avere una conoscenza a tutto tondo e allora si potrebbero fare delle regole precise. Mentre invece qui si pensa di fare dei nuovi operatori di rete peraltro che operano su frequenze sostanzialmente inesistenti perché le frequenze dell'ex beauty contest sono frequenze di banda terza oppure sono frequenze di banda quinta che fra tre anni o quattro al massimo dovranno essere dismesse. considerando che l'autorità deve ancora pianificarle che poi il ministero dovrà metterle a gara che poi dovrà essere fatta la gara poi arriverà il T2 quello è un altro problema perché si può trasmettere in T2 però a quel punto dovranno essere assegnate le frequenze poi chi sarà l'assegnatario ammesso che c'è qualcuno che ne faccia domanda dovrà installare gli impianti e per farlo dovrà avere oltre che le autorizzazioni radioelettriche ma anche le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie che ci vogliono mesi se non anni per ottenerle quindi un percorso di questo genere minimo da oggi ci vorrà un altro anno e mezzo, due anni e quindi uno riuscirebbe ad attivare questi impianti quando è ora di spegnerli quindi io mi domando di che cosa stiamo parlando quando si fanno dei progetti di questo genere. Infine in sintesi una risposta al volo LCN noi riteniamo, come abbiamo sempre ritenuto che la soluzione della delibera 366 cioè il primo piano di numerazione LCN sia la cosa più importante che l'emittenza locale abbia mai ottenuto in questo momento di transizione al digitale perché si sono ottenuti 39 numeri tra i primi 100 tant'è vero che il secondo numero ci ha ridotto gli spazi da 39 a 13 questo ha dimostrazione e se si facesse un ulteriore piano di numerazione con l'indebolimento complessivo del comparto il numero di numerazioni la quantità di numerazioni potrebbe ancora scendere io credo che la soluzione sia quella di confermare il piano LCN del 2010 recependolo definitivamente in legge anche perché sarebbe inconcepibile dopo 5 anni che l'utenza è abituata a ricevere le televisioni su certi canali che si trovi senza questi canali perché non tutti sanno ma dal punto di vista tecnico è abbastanza banale che se si cambia la posizione dell'LCN l'emittente continua a stare in etere ma nessuno la riceve più non la riceve più fino a quando non verrà operata la risintonizzazione dei televisori e quindi è proprio tecnicamente impossibile riceverlo per cui per fare la risintonizzazione dei televisori ci possono volere anni prima che questo accada per cui evidentemente si creerebbe un danno colossale all'intero comparto televisivo locale rimettere in discussione le numerazioni ancora una volta Marco Rossignoli, Antonio Franco per MilleCanali.it grazie a tutti